il bug di black ops io mi racconto e si viene con la spia muovi il controller il mio controller non è possibile ragazzi vai vai io muoio io muoio oh magari questo può vai 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 non è possibile mira mira è un altro adesso guarda ti miri da solo cioè miri la tua mira guarda mira vedi che ti vedete che ti miri no no ma cos'è ciao ragazzi ciao a tutti